Problema tecnico Vediamo di farlo funzionare Guarda che ci vedo 19 ore Ho già fatto 20 ore Ho già fatto tutta una situazione particolare Siamo tornati Siamo tornati nel nostro tubo Attenzione, riniziamo da qua Io direi di ampliarci Direi di ampliare il nostro tubo La nostra casa Il nostro armi diventa Che eleganza, che finezza Ok, no, a posto La missione di oggi era Era andare al All'attraco stazione delta Un attimo, però bisogna di acqua Perché Perché se no mi sa che Correggiamo male Molto dettagliato Ma è neanche troppo lontano Attenzione Ehm Stavo dicendo Andiamo a fare un po' d'acqua Un po' d'acqua Un po' d'acqua Che ci aspetta un viaggio Per senso Impegnativo Ciao casetta Ci vediamo più tardi Cerchiamo di tornare con Con una cupola Da attaccarti Partiamo L'avventura Andiamo verso La tracostazione delta È difficile che muoio Perché è schiaccia Che vuole questa Desidera? Guardi che io non so tanto A chiedere informazioni Generiche riguardo A come andarmene da questo posto Non è che volevo Intusularmi da qualche parte A rosicchiare A fare No? Andarmene No anzi Mia sorella E poi me ne vado Prima di ci Mia sorella E poi me ne vado Esattamente Noi eravamo venuti Per mia sorella Eccolo qua lo zolfo Eh sì Hai ragione Che cacchio vuoi te? Eh Vuoi combattere? Vuoi combattere? Eh 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 Oh 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 Aggressivo Eh Aggressivo Attenzione Tipo di qua Ok Sì Ma sei scemo Ma sei scemo Non ho avuto Io non ho avuto Altera Quindi la tua posizione è doppiamente precariosa Che vuoi dire? Se sei dicendo la verità Sei fuori Ma sei scemo Se sei un lion Ma sei scemo 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 è stato un motivo di funzione, attenzione! hanno avuto problemi un po' buio ma che bello che è di notte qua sopra situazioni per l'uso c'erremmo sul caso di una diagnostica questo sarà la diagnostica e non ce l'abbiamo non possiamo fare nulla torniamo giù prima che crepiamo di fretta oh con calma cioè non è che ho detto buttiamoci giù ho detto andiamo giù possiamo andar via mi sa ah la cupola no 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 guarda c'è ancora sto qua c'è questa strutturina qua sopra a finire di analizzare apri dovrebbe essere tutto adesso però bello questo andiamo a fuggire ragazzi teniamo attivo tanto infinito analizziamo l'analizzabile e poi torniamo a casa questi magari a parte che costruire finalmente un habitat decente per la nostra sopravvivenza una cupola almeno non un tubo come i criceti dai andiamo a casa facciamoci sto sto robo via 68% sti cazzi hai ragione mi serve il preparatore assolutamente non devo più sbatteri spagnoso stronzo mi scusi sto guidando vi dica non lo so non lo so ma la tua sestra era Altera mia sestra era mia sestra si lavorava per Altera le persone non percevano una differenza siamo quello che noi lavoriamo beh Sam non era mi sembrava mi sembra che Altera trova un modo di incontrare le venghe come ho avuto ho cercato di warner e lei era stupenda proprio come me avevo umiliato qualcosa la nostra sorella avevo un po' di spazzolini sapeva che era un attimino abbastanza più più meno controllo gli stessi lavorano nelle migliori per Altera sì ma ma si credo che che si non la nostra non 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 è non ma in questo e anche E' il paladineo pitardo, devi vederci Stanza multifunzione Ecco, porca puttana Devo spostare tutto Perché non me la fa costruire L'unica è spostarci dall'altro lato Costruire qua dall'altro lato Vuol dire spostare il portellone Vabbè, spostiamo Piuttosto che Dover costruire delle stanzette fuori Portare tutto il materiale fuori Smontare tutto quello che c'è dentro Monta il portello Perfetto Che poi rimonteremo dall'altra parte E' stanza multifunzione Attenzione evoluzione Guarda qua Cioè, come mettere Già da tubo ci siamo evoluti In stanza ovale Wow, è stanza circolare Perfetto Facciamo il portellone di qua Perché non possiamo Ecco Perché ci mancava solo che non potevamo Perché c'era qualcosa Allora Oh Guarda quanto bello spazio Vediamo adesso Cioè, in confronto a prima Ragazzi, io mi sento proprio Guardate come posso Posso correre in cerchio Mamma mia Prima potevo far così Sostanzialmente Tac Tac E' anche un po' Tac Tac, velocista Comunque Cristallo Allora, abbiamo già tutto pronto qua Perfetto Cristallo Uno Due Tre Quattro Cinque Uno Due 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 Facciamo qualche armadietto Li sistemiamo solo come noi sappiamo sistemarli Ti perderà tanto tempo nella costruzione Quello è poco ma sicuro Però ne guadagniamo in spazio Fidati E' stato avvenuto un po' stortino ma Poi vediamo una sistemata Non mi sembra troppo lontano Secondo me ci possiamo arrivare Abbandoniamo un attimo casa nostra Prendiamo sto Sto rob Aspetta Che se io parto Ho giusto bisogno Facciamo strumento di riparazione La batteria però Ho una batteria Non ho neanche una batteria Però intanto utilizziamo la batteria Scarica Tutto? Tutto Andiamo a farla di là Perché attualmente Posso smontarlo? No non posso smontarlo Vero Quello nella capsula Perché se posso smontarlo lo smonto E radico dal quadro elettrico Vediamo se si può No Non si può Non per riparazione Attenzione Andiamo a riparare Il mezzaccio E partiamo Per L'artifatto alieno Pari 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 Porto come on Artefatto Da che parte stiamo andando poi Vi asso est Non mi dire così per favore Perché Sai che poi entro in panico facilmente Bisogno di diamanti Magari qua trovo anche dei diamanti Dai Devo scavare Ah si guarda Si 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 Sì si si ok Ok Vado eh Un trufolo Ho penetrato Attenzione Qua Aia Qua non è che c'è del diamante per caso Quello è diamante? No Quello è quarzo Schifo è quarzo Uh però c'è No c'è un cazzo Eh io provo proprio di incastrarmi male qua dentro Qua dentro Questa cosa Si dai Mi incastro male Dov'è il coso? Qua sono 180 metri Sti cazzi Ciao scimmile merna Eh qua Allora Quindi questo Che preoccupare Faccio una run Tanto sappiamo che ci muoio male qua dentro io E qua sotto Ma è proprio Dimmi che lui Non c'è di niente Devo anche muovermi però eh Si è mico mio Che c'è stato Perfetto Abbiamo qua sbloccato la taglierina Ci sarà molto utile Eh ma che vuole lei Scusi Sempre alla guida Mi chiama poi C'è stato Corey Non c'è stato C'è stato Mi Mi Come 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 Un'amore del mondo. Un'amore continuo sul background di incisione. Sono ora una stessa colpita in cerca di una harmonia familiar. Spero di aiutarti a trovare. Che ansia... Se non mi mettono ansia le scimmette di mare... mette l'ansia risoluzione... Tutto c'è una scimmiera... Attenzione Ciao zio, forca madonna Allora usciamo da sto buco Spero di essere sulla strada giusta Ahia che male Ahia che male Perché non so guidare, non c'è la patente nautica Cine di luci Prima lezione di guida Cine di luci quando è notte Via Torniamo rapidamente verso casa A proposito Non abbiamo sbloccato i caricabatteri Abbiamo sbloccato l'armadietto quantico Caricabatteri de merda Anche col cavo Certo Potrebbe essere un problema Potrebbe essere un problema Beh, intanto costruiamo un piccolo esercito di batteria Sì, sperando che Non finisco prima io le batterie Non riesco più a muovermi Porco Aspetta Non mi ha tolto vita, non mi ha colpito, non so come Si aspetta Il respiratore non è che ce l'ho, c'ho il progetto Fibra di rete, gomma siliconica cavetteria Possiamo farla volendo, sì Aspetta un attimo Andiamo a prenderci queste fibre Per fare... Il respiratore Le piante dovrebbero essere di qua Se la geografia non è un'opinione Se i continenti non si spostano nel corso dei millenni Ecco, fammi tutto Comventario pieno Vabbè I continenti servivano? Al massimo ci speriamo di qualcosa Una, una, una a posto Andiamo indietro Vediamo anche una di troppo Anzi, che faccio? Me la mangio Consuma Perfetto Torniamo a casa Fammi chiamaci sto coso Mio Mio Pisciolino Facciamo sto nastro Posso già farla? No Cosa è che serviva? Dov'è che è poi scudo? Ok Comma siliconica che ce l'ho Di là Che palle! Quanto mi costa? Quanto mi costa? No, devo volerlo qua C'è tutto eh Che faccio? Faccio tutto di là Facciamo prima Facciamo tutto di qua Ci appiccico la parete La fanculo Ecco tutto Così faccio tutto qua in velocità Mannaggia Scusami La cavetteria Perché non mi dice? Aaaaaa Nooo Beh, dimmi che ce n'ho uno Siiii Maschera E Gli obiettivi Al momento Non ne vedo A parte l'ultima posizione Conosciuta Però il problema è che Ci serve il diamante Io direi di andare Alla ricerca di diamanti Possibilmente Aspetta Forse Verso Adesso lo attacco a stazione delta Sotto a stazione delta Sotto a stazione delta Dove ci sono Diciamo Quelle cose lì Ci sono dei buchi Dove si può andare dentro Mi sembra che lì si trovi qualcosa Non ho fatto nulla Non mi hai visto Qua C'è Qua da qualche parte Qua è comodo Eccolo, eccolo, eccolo È blu Qua è comodo per il litio anche Qua dentro non deve essere Non deve essere E' una mangia Ma queste Uncidia Corri Corri Ah eccolo, eccolo Senza morire Male Prendi porta a casa, prendi porta a casa, prendi porta a casa, prendi porta a casa Basta? Oh guarda lì ce n'è altro in mezzo E come faccio ad andare lì in mezzo? Mi faccio male Trovo eh, vado eh Qualcuno l'ha preso Vabbè dai, diciamo che di momento... qualcosa c'è qualcosa Mi fa brutto Ossigennò Eregione Regione 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 Vedi che non ci penso C'è un pezzo di qualcosa qua Poi non sto mai dentro abbastanza Vabbè Non sto mai dentro abbastanza per recuperare Tutto l'ossigeno Non ci spero Dai andiamo a fare il coso di immersione Del Seatrack Quindi Il vetro smaltato Il vetro già dovrei averci qualcosina Quanto Quanto vetro smaltato ci serve E poi per il vetro Anche il piombo serve, attenzione Ah, fangulo Ma già ce l'avevo Questo, sì, due E l'ingotto di plastacciaio Ce l'abbiamo il litio? Mi sa che siamo poveri di litio Siamo poverissimi di litio Neanche poveri, proprio che non ce l'abbiamo Sì, ma che litio? Dobbiamo andare a fare il litio allora Litio, 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 litio Non so dove trovarlo Dov'eravamo prima, sostanzialmente Da quelle parti là Oh, cazzo Maremma Maiala Potrebbe però essere interessante Andare là sotto a fare un salto, eh Così, quasi Abbandoniamo qua la macchinina Ecco, perfetto, dai Puogliamo un attimino le cose Le risorse utili che sono qua E quello cos'è? Diamanti Nooo Basta, posso Cricetto, siamo posti per la vita Preparo il furgone Cazzo, sì Grande, grande, grande Guarda qua, guarda qua Guarda Ah, c'è C'è una miniera di tutto qua Abbiamo recuperato un po' di ossigeno Siamo staccati di roba Allora, abbiamo trovato Abbiamo trovato quello che cercavamo Il litio No Abbiamo trovato tutto Tranne che il litio Andiamo a portare a casa Quello che abbiamo trovato Intanto Bada laga, dai Direi che per questa live Facciamo tutto così Lasciamo tutto com'è Mi raccomando Un bel polizionato su YouTube Facebook, Instagram Condividete Fate un po' quello che vi pare E ci sentiamo alla prossima live Grazie a tutti.